Una lettera al Ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, a scriverla ai rappresentanti di classe di alcuni studenti del Liceo Musicale Misticoni di Pescara, per segnalare alcune anomalie relative a un docente. La storia inizia nel 2013. C'è un professore che ha dei comportamenti che noi abbiamo ritenuto assolutamente inidonei. Quello che noi stiamo chiedendo è che, nonostante abbiamo fatto raccomandate, richieste, siamo stati all'Aquila dal dirigente regionale tre per tre volte, io e la mia collega, ci hanno garantito che avrebbero fatto un'ispezione, che avrebbero controllato, verificato, in effetti non si è verificato niente di tutto ciò. Dall'iniziale motivo per il quale si era palesata la preoccupazione dei genitori, si è giunti poi a scoprire nuovi dettagli del caso. È stato l'intervento del legale rappresentante, mediante l'accesso agli atti, a riscontrare alcune irregolarità. Il professore, inidoneo ad assolvere la propria funzione educativa e di docente, non ha in possesso dei titoli che legittimano l'insegnamento delle materie alle quali sostanzialmente è stato adibito, per le quali è stato incaricatolo. L'aspetto più sconcertante è che la pubblica amministrazione non ha dato alcuna risposta, non ha riscontrato le nostre emissive, ha provveduto a confermare nell'incarico il docente senza dare un'adeguata risposta motivata a questa scelta, tanto che noi ci siamo indotti a scrivere al ministro dell'istruzione perché eventualmente verifichi.